...e chi si chiama è contrario. Quindi, l'altra parte è stata una città. Io prima di rinforzare per tante capote, la contesia è di rinforzare il numero delle persone che sono abilitate per una questione di sicurezza a rinforzare il Consiglio, quindi inviterei un attimo gli amici un po' più difficili di fassicare loro di questa esigenza che è tutta un'esigenza. Allora, qui partiamo al primo capo all'ordine del giorno che modifica il regolamento del Consiglio Comunale e questa è la seconda comunicazione del giorno che ci sono più stessi a parlare. Io dice Lanzano e Consiglio, dato che io ci chiedo scusa, dato che Lanzano aveva chiesto di rinforzare l'indelettuale del potere, la parola Consiglio è Lanzano. Grazie. Abbiamo concluso a questo consigliere. La parola Consiglio è l'indelettuale del Consiglio Comunale del Consiglio Comunale del Consiglio Comunale del Consiglio Comunale, quindi chi rimane nel senso approva chi mi ha questa cosa. E basta, ma anche i dati, ritorniamo. Secondo un atto, modifica il regolamento del Consiglio Comunale del Consiglio Comunale, la parola Consiglio è Lanzano. E comunque già è un'indelettuale del Consiglio Comunale del Consiglio Comunale del Consiglio Comunale del Consiglio Comunale. Grazie.